Sei in compagnia di SPS Italian. Slow Italian. Fast Learning. Melbourne ha conservato il titolo di città più vivibile al mondo per sette anni, ma un nuovo studio mostra come la seconda città d'Australia abbia parecchio margine di miglioramento. Ricercatori al RMIT Center for Urban Research sostengono che le città vivibili possiedono abitazioni a prezzi accessibili e variegate, collegate da un trasporto pubblico conveniente, da infrastrutture che permettano di camminare o andare in bicicletta al lavoro o a scuola e da spazi pubblici aperti. Lo studio, redatto dal Healthy Livable Cities Group, del centro, ha notato che Melbourne non rispetta tutti questi requisiti e che abbia la necessità di creare una cosiddetta città camminabile, dove le persone possano raggiungere facilmente le loro destinazioni senza un'automobile. L'autrice del rapporto, Billie Giles-Corty, ha dichiarato che l'attuale obiettivo di densità netta della città di 15 abitazioni per ettaro è ben al di sotto del numero ottimale di almeno 25 abitazioni per ettaro di una città camminabile. La professoressa Giles-Corty sostiene che bisogna riconsiderare le attuali politiche di sviluppo della città. Lo studio, inoltre, invita a ridistribuire i posti di lavoro nella città per ridurre i tempi di trasporto, migliorare il traffico e incoraggiare più attività fisica. Il governo del Victoria si è impegnato, in caso di vittoria alle elezioni, a costruire una linea ferroviaria da 50 miliardi di dollari per collegare i quartieri dell'est con l'aeroporto di Melbourne e la zona ovest. La professoressa Giles-Corty ha lodato la proposta, sostenendo che potrebbe anche aiutare a creare opportunità di impiego. Il rapporto, inoltre, sottolinea la mancanza di un trasporto pubblico adeguato per chi vive nella città e nei dintorni di Melbourne. Le Victorian Planning Provisions sostengono che il 95% delle abitazioni di Melbourne dovrebbero essere situate entro 400 metri da una fermata del bus, 600 da una del tram o 800 metri da una stazione del treno. Ma il rapporto ha rivelato che appena il 69% delle abitazioni e il 14% dei quartieri rispetta questi requisiti. Il portavoce della Public Transport Users Association, Daniel Bowen, ha dichiarato che anche la regolarità dei servizi è un problema per chi vive al di fuori del centro. Bowen aggiunge che devono essere rese accessibili agli abitanti di Melbourne altre alternative per il trasporto. La professoressa Giles Corti sostiene che la chiave per una città più vivibile è una migliore pianificazione a lungo termine. Il governo attuale e quelli futuri, ha dichiarato, devono progettare da qui a 50 anni, piuttosto che cercare aggiustamenti nel breve termine. Ascolta altre storie in italiano. Visita sbs.com.au barra italian.